Benvenuti in Dawson Films, la casa di produzione video che trasforma visioni in realtà. Con una completa gamma di servizi, ogni progetto viene realizzato con passione e precisione. Documentari che esplorano il cuore delle storie più affascinanti e speciali, che catturano momenti indimenticabili, trasportando gli spettatori in mondi nuovi. Portometraggi creativi e coinvolgenti, capaci di emozionare e sorprendere con narrazioni potenti in pochi minuti. Videoclip musicali che esaltano l'essenza degli artisti, rendendo la musica visibile e vibrante. Backstage esclusivi che svelano il pietro le quinte, mostrando il processo creativo e l'energia dei set. Featurette approfondite che arricchiscono ogni produzione con dettagli e retroscena unici. Spotti incisivi e commercial che catturano l'attenzione promuovendo brand e prodotti con creatività e impatto. Dozon Films, dove ogni frame racconta una storia, ogni progetto diventa un capolavoro.